Ciao bambini, oggi giochiamo insieme con i numeri e con i mezzi di trasporto Qui abbiamo delle moto, quante sono? 2, 3 o 5? Vediamo chi indovina Vediamo 1, 2, 3, 4, 5 5 moto rosse sfiammanti che sfrecciano per la strada E via, forza! Altro giro, altro regalo Vediamo un po' adesso Abbiamo delle automobiline, quante saranno? 1, 2 o 4? Vediamo un po'? No, non sono una Vediamo insieme quante sono Contiamo 1, 2, 3 e 4 4 automobiline rosse Delle belle auto sportive E adesso cosa succede? Vediamo un po' insieme Mmm... ci fanno attendere Ma che cosa c'è? Una sorpresa per noi Apriamo questo pacco, sono curiosissima Che scatola grande Via, strappiamo la carta che porta fortuna Strappiamo, strappiamo, eh? Strappate anche voi Un attimo di attenzione Scuotiamo un po' la scatola Chissà che cosa ci sarà, sono curiosissima Dai, 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 dai Vediamo, 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 vediamo Wow, un'automobilina da collezione E vai! Adesso questa la mettiamo sulla mensola Forza, forza, continuiamo Dei trattori Quanti sono? 3, 2, 1 2 Bravissimi, bravissimi Dai, 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 dobbiamo vincere così Abbiamo un altro premio Forza, forza, forza Due trattori E adesso che cosa c'è? Vediamo Delle altre moto Sono due, tre o cinque? Una, due, tre Quattro E cinque Cinque moto Mmm... c'è traffico oggi per la strada, eh? E adesso Sono proprio curiosa di vedere Che cosa c'è? Delle automobiline rosa Quante sono? Una, due e tre Tre automobiline rosa Sono quelle piccoline Che si parcheggiano un po' ovunque E poi? E poi, e poi, e poi Dai, 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 dai Forza, forza Forza, giochiamo con i numeri Oh, questo che cos'è? Eh, ma questo è facile Certo, era un camion Solo uno Un camion verde Forza, noi vogliamo cose più difficili Perché siamo bravissimi con i numeri Vediamo un po' Delle auto rosse Quante saranno? Una, due o quattro? Vediamo un po' chi indovina Una, due, tre e quattro Bravissimi! Sono molto, molto fiera di voi Ma quando arriva il nostro premio? Dobbiamo sudarcelo ancora un po' Vediamo, vediamo, vediamo Forse, forse ci siamo Sì, ecco il nostro premio! Chissà che cos'è Scartiamo! Via, togliamo tutta la carta Che non ci serve Diamo una scossa alla nostra scatola E aspettiamo un attimo Pronti? E voilà! Un'altra automobilina da collezione! Perfetto, andiamo a metterla sulla nostra mensola E ci vediamo la prossima volta Ciao, 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 ciao a tutti!